Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Yikore e come potete vedere oggi siamo ritornati su Minecraft Allora, se vedete ho cambiato zona, ho fatto una live su Twitch per questa casa Faccio qua di non cadere Prima cosa raga che ci facciamo magari Sarà Magari qua Non lo so, non so se perché, adesso vi faccio vedere che ho fatto due piani Allora Ho fatto questo che è da coprire perché è un po' rischioso che poi lo faremo Ah no, di qua non si scende, mi stavo dimenticando E anche qua, è da qua proprio, si scende da tutta la casa Quindi Non so dove farmi Magari dai, mi faccio tutto qua sopra Diventa Più comodo Ciao Un po' di sabbia Dividiamoci questa cosa, ok? I bastoncini ce li vedete ancora? No Quindi Dobbiamo andare A farci un po' di legno Vi avviso raga Per fare questa casa Sono caduto ragazzi mille volte Ma Proprio non vi immaginate come sono caduto Ma no, così così però Se facciamo così Via dalle balle E ci facciamo un paio di torce Per casa nostra Perché sennò Quando noi torniamo Tipo Ah, devo ricordarmi che c'è il buco Perché ho in mente, ecco Adesso lo possiamo coprire Ok Così guardiamo Un po' giù Ma perché no Anche a 1,6 Qui Così sembra Che caglieremo Cioè C'era È stato più difficile Di non so che cosa Fare Questa casa Poi qua Vabbè Devo finire Io direi di Ma cosa ci costa andare adesso Ah no Adesso dobbiamo fare un lavoro Importante Mettere tutte le luci In tutti i piani Così almeno Ci assicuriamo Che è tutto Illuminato Prima Prima che ci ritroviamo Qualche amico Con noi Allora Qua Iniziamo a dormire E let's go Quattro Allora Adesso andiamo a tagliare un po' gli albi Qua che si rischia Di più Ok Qua c'è già uno scherzo Per sicurezza Andiamo nella zona più sicura Che c'è Non si vede casa nostra Bene Non si vede casa nostra Eccola lì Mamma mia Quanto è bella Ok Abbiamo la pala Quindi Poi andiamo a raccogliere un po' di regno Perché un altro piano Lo volevo fare un po' diverso Ma Scusate ma Hanno tolto per caso Eh si Mi sa che Hanno tolti Mi dispiace Allora Ci serve Tanta Tanta Ragazzi Tanta sabbia Almeno due da 64 stack Che Dovremmo captarci gli altri Per fortuna La sabbia Non è così Difficile da scavare Eh Allora Se Se vi domandate Se in questo server Entraranno alcuni miei amici Sì Quindi Non farò Perché inizio da solo Ok Ho di sotto appena la pala Bene Penso che c'è 55 stack Vabbè Allora Questo direi Di Tagliarlo Che l'altro piano Lo facciamo Come lo vogliamo Allora Allora Nell'altro mondo che ho fatto Avevo Allora Avevo I diamanti Che li ho trovati In un villaggio E Non so se c'è ancora Adesso Ecco Magari Questo me lo tengo Per fare le spade No Uh Qua ci potrei fare La mia caverna Io sono spawnato Praticamente Qua vicino Quindi Questa è la fortuna Di aver costruito Quella casa E Non è ancora finito Allora Questa Non si tocca Perché Quella proprio E per Per farci le armi Poi Tra poco Magari Ci evolviamo Un pochettino Facciamo di ferro Non Non ti ferro Perché Non l'ho Ancora Trovato Magari Qua Siamo fortunati Vabbè Iniziamo Iniziamo Forcelo in pietra Che sono impazzito Come non so che cosa Ragazzi Eppure La cosa bella Che vicino Accanto a casa mia Ci sono i delfini Quindi Buono Questo che mi da fastidio Nell'inventario Ok La spada Ormai La faccio Di Come si chiama Di pietra Perché almeno Così ragazzi Riusciamo a fare Le cose Un po' di più Questo video Ragazzi Durerà un pochettino Di più Magari Ci facciamo Un'altra Fornace Che ne dite È stato abbastanza Stack Per Fare Tutto Magari Di più Penso a farmi Il piccone di ferro E la spada di ferro Eh sì Di Perché in questo Negli altri episodi Andiamo alla ricerca Del ferro Ragazzi Perché Non si può rimanere Ancora così A letta Della Cos'è stato Ah qua Un aggo Che si disintegra Ma si distruggono No Aspetta Come si distruggono Gli alberi No Non dirmi No Allora Devo scappare Subito a casa Ah no Perché Ok Io ho fatto La base Sotto Bene Per fortuna E adesso Qua Trovaro L'ingresso Dalla Casa Un po' Complicato Trovare L'ingresso Ma fa niente Ma perché devo fare una casa così grande Allora Adesso in teoria Tutta questa sabbia Crafting Dove è la mia Crafting Crafting Ok Allora Ah Mi sto presso Tocale Facciamoci questo Prima cosa Allora Allora Ok Sono scemo Ho usato Allora Ho sbagliato Ovviamente E poi Perché nel nether Mi sa Che c'è Questa cosa Nuova No Perché Mi sto rompendo Ah Ecco Cosa devo fare Mi stavo dimenticando Questo piano Un po' Piccolino Vabbè Il cibo Me lo tengo Metto quello Che non serve Tanto Poi ragazzi Un giorno Facciamo anche Un balconcino Un balconcino Qua ci starebbe Fino lì Aspettate Prima Finisco Questa cosa Fondamentale Dai Mamma mia Qua Raga Dobbiamo stare Molto Molto Attenti Ho capito Che siamo Proprio sotto Caggia mia Però Il mio tentativo Ragazzi È far un portale Ok Ok Ponga Cozini buona 18 ok a me piacciamo gli altri vetri di minecraft mi sa che li hanno tolti perché se no ma la domanda perché li hanno tolti bene qua possiamo per farci nooo potevo fare i calzettoni i calzettoni si le come si chiamano allora aspettate quale cose che non mi serve ma la fine cosa mi serve allora bene sono contento che ho ucciso anche due creeper questa la messa per se la fosse su ah che bello allora adesso andiamo in min 6 poi devo fare anche questi che sono un po' più semplici intanto noi abbiamo questo compito ragazzi allora di lo mandiamo sotto ok di finire questo piano che ci andremo di sicuro nell'altro episodio a finirlo oppure io lo finisco in off camera e noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi di minecraft mi raccomando ragazzi tenetevi sempre aggiornati in questo video che almeno ci porteremo avanti bella a tutti i ragazzi a tutti i ragazzi che a tutti i ragazzi che a tutti i ragazzi che a tutti i ragazzi